La voce degli alberi e l'abilità delle mani. La liuteria napoletana nei secoli ha avuto autentici caposcuola ed una tradizione antichissima. Numerose famiglie hanno tramandato l'arte della costruzione degli strumenti a plettro o a pizzico e così Napoli è stata una delle poche culle che nei secoli ha mantenuto la costanza della tradizione. L'occasione è utile anche per far presente a tutti i giovani che ormai sono troppo abituati a comprare cose già fatte, che c'è tutto un mondo di artigianato alle spalle, aperto anche a noi giovani e a noi donne soprattutto. Faccio parte di questa categoria che è abbastanza in estinzione in quanto mentre prima veniva tramandata di generazione e generazione, oggi invece è più complicato, bisogna fare una scelta più diretta. Nella Galleria Principe di Napoli, uno spazio splendido finalmente inserito nella programmazione culturale della città, la fattura pregiata e le qualità sonore e timbriche di questa scuola artigiana sono state illustrate direttamente dai maestri liutai in uno degli appuntamenti di Natale a Napoli. Dal taglio del legno alla lavorazione e dall'assemblaggio delle parti fino alla verniciatura, un vero e proprio atelier con banco di lavoro, legni ed attrezzi per l'intagliatura, per approfondire la sofisticata arte che unisce la fisica acustica e lo studio delle tecnologie. È un progetto per la città, dedicato ai ragazzi e dedicato al futuro. Quella di oggi è sulla musica, abbiamo invitato questi maestri liutai per fargli capire proprio quanto è importante la musica nella loro vita. I maestri del Conservatorio di Avellino e la direttrice del Conservatorio di Avellino hanno trasmesso questo loro amore, questa passione che è la nostra passione.